Recitare per il teatro e recitare per il cinema sono cose diverse? Questo è un tema che ci sta molto a cuore. Rispondere a questa domanda senza fare di distinguo si rischia di essere superficiali e di farci male, ma a noi piace rischiare. La differenza fondamentale dalla quale poi scaturiscono quasi tutte le altre è che a teatro si filma, al cinema si fa fotografia. Ripeto, a teatro si fa quello che troppi attori credono sia il cinema. Infatti quando vanno a recitare per il cinema fanno quello che fanno a teatro. Invece nel cinema si fa quello che pochi attori sanno, comporre fotografie. Fotografie. Facciamo un piccolo disclaimer. Mi rivolgo a quelli che vogliono diventare attori di cinema e vogliono provare a capire quello che dico. Un po' anche a quelli che pensano che recitare è recitare, ma dentro sentono che qualche cosa vacilla. o per dirla in modo più prosaico sentono che in fondo il loro cuore è una cazzata. Gli altri abbandonino. Quelli che sono fermi nelle proprie idee possono smettere qui. non mi sto rivolgendo a loro. Quindi hai pochi rimasti. Per una confusione linguistica, voi credete che sul set bisogna recitare come sul palcoscenico? Hanno usato le stesse parole. Questo è un errore che almeno voi addetti ai lavori dovete provare a correggere. Quando andate sul set andate a comporre fotografie. E quindi dovete seguire le regole della composizione fotografica. Vi muovete, ma per passare da una posa all'altra. Da una fotografia all'altra. È controintuitivo, lo so. Ma se fosse intuitivo, d'altronde, non staremo qui. E le cose che diremo sono per quelli che vogliono conoscere i segreti del cinema. Per quelli che vogliono essere iniziati a quest'arte. Una delle obiezioni potrebbe essere ma allora tutti quelli che fanno cinema oggi converrete con me che fare ed essere sono due cose diverse. Tanti fanno gli attori di cinema ma pochi lo sono. Cercando di prendervi per mano io vorrei portarvi in un viaggio breve. Breve ma intenso. In come la vedo io. Non sono famoso, non sapete chi sono e bla bla bla. Ma se state ancora qui è perché in cuor vostro sapete che fare ed essere sono due cose diverse. E che gli attori italiani che vedete al cinema o in tv non vi convincono. Volete iniziare questo viaggio? Seguite la serie che stiamo pubblicando su questo canale Tutto il rosso del cinema. Osserveremo nel dettaglio quello che fanno i grandi attori. Vi indicherò esattamente dove guardare. E se per caso qualche cosa risuona in voi qualche cosa vi attrae deciderete poi se proseguire. Se volete andare un po' più veloce ma dovrete soffrire anche un po' di più potete leggere il breve ma intenso manuale per attori di cinema. Lo trovate su Amazon per pochi euro. Se poi volete la versione aggressiva e rapida dell'apprendimento della trasformazione c'è il master attori selvaggi ma quello è costoso e faticoso e non è per tutti. È rapido ma faticoso faticoso e costoso. Io direi di lasciarlo solo per quelli che proprio non possono farne a meno di diventare attori di cinema. Quindi per cominciare su quanto ho detto che il cinema è comporre fotografie. Per esempio andatevi a vedere l'episodio di Tutto il rosso del cinema su Apocalypse Now. Good night and good luck. Allora?